In un supermercato di Bronte da un po' di tempo mancava della merce da reparto macelleria. I titolari, convinti di essere vittime di furti interni, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri del locale comando della stazione. Un impiegato di 45 anni originario di Paternò e assunto solo pochi mesi prima è risultato essere il colpevole. Il modus operandi dell'uomo consisteva nel nascondere la merce trafugata nel suo zaino al mattino. Grazie ai filmati di videosorveglianza e alle segnalazioni tempestive dei titolari del supermercato, i carabinieri hanno deciso di cogliere l'impiegato sul fatto, organizzando un servizio discreto. Al momento dell'uscita per la pausa a pranzo hanno sorpreso il macellaio mentre trasportava il suo zaino verso l'auto. Interrogato ha dapprima negato e poi, di fronte alla richiesta dei carabinieri di aprire il borsone, è stato costretto a cambiare versione dei fatti. Al suo interno non c'erano alimenti, bensì due bottiglie di marinata e quattro matasse di budello del valore di circa 60 euro, corrispondenti esattamente alla merce denunciata come rubata. L'impiegato è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto aggravato e la merce è stata restituita ai legittimi proprietari.